Oltre 8.000 paia di scarpe, migliaia di scatole ed etichette per il confezionamento, tutte riportanti la falsa dicitura Made in Italy, sono state sequestrate dalle fiamme gialle fiorentine in una società di vendita al dettaglio di casalinghi e articoli di vestiario a Cerreto Guidi. Questa è solo l'ultima operazione contro i prodotti di moda contraffati messi a segno in Toscana e proprio per combattere un fenomeno ormai dilagante in occasione di Pit Immagine, 450 studenti delle scuole medie e superiori hanno realizzato una speciale campagna contro i falsi promossa dall'osservatorio anti-contraffazione della Camera di Commercio Fiorentina. Non compriamo prodotti contraffati, finché si continuerà a comprare prodotti contraffati ci sarà sempre qualcuno che sarà interessato a produrli e quindi a generare tutto quel sottobosco e tutta quella illegalità che dietro a un prodotto si nasconde. Questo è il nostro intento e quindi compiti nell'eventualità oggi, nella specifica, di avere una manifestazione più importante al mondo della moda dove si rappresentano le aziende sane, dove si rappresenta il Made in Italy, noi volevamo dare un messaggio al mondo intero che la contraffazione lede tutti questi valori. Tra gli obiettivi c'è proprio quello di sensibilizzare, sensibilizzare i nostri concittadini partendo dai più giovani e le nostre imprese a tutelare l'originalità dei propri prodotti e anche al rispetto della legalità. È infatti partendo, agendo sulla domanda di questo mercato illecito che si può davvero poi riuscire a combatterlo.